gentili telespettatori buona giornata è sempre più complicato per il governo per il premier cercare di allargare la maggioranza senza aprire una crisi formale perché allargare una maggioranza in questo momento senza avere un posto di lavoro da offrire ai mercenari è difficile mentre passando per una crisi le dimissioni un re incarico conte potrebbe creare questo partito di centro far convergere lì tanti e tanti mercenari e con un nuovo governo potrebbe distribuire ministeri a destra sinistra e posti di lavoro aiosa ma senza le sue dimissioni questo diventa più difficile beh come sospetta conte non è vero che il pd non abbia cercato voti in parlamento l'ha fatto ma per un altro governo nel senso che parlando con i potenziali nuovi alleati i dirigenti dem si sono sentiti dire da tutti la stessa cosa con conte a palazzo chigino con un altro al suo posto è vero che molti parlamentari avrebbero detto con conte a palazzo chigino perché con conte a palazzo chigino quando l'unico interesse è lo stipendio a voi interessa che il direttore generale dell'azienda dove lavorate si chiama ciccio pasticcio o pinco palla dice no non vado in quell'azienda finché c'è quel direttore generale può essere però se voi non avete contatti che ve frega di maio che intanto ha incontrato più esponenti del centro destra che ambasciatori avrebbe ricevuto l'identica risposta con conte a palazzo chigino con un altro al suo posto quindi sembrerebbe se prendiamo per buona queste queste rivelazioni allora sarebbe difficile per conte cercare dei mercenari in più per allargare questa fantomatica maggioranza senza passare come dicevamo dall'apertura di una crisi formale una crisi formale si apre dopo le dimissioni del premio quella è la crisi formale ma lui ha paura che lo lasciano a casa e quindi basterebbe prendere i renziani senza renzi dato che franceschini proprio ieri dice anche se avessimo 161 voti al senato la sostanza non cambierebbe un governo è forte se può contare almeno su 170 senatori beh insomma arrivare a 170 senatori da 153 ne servirebbero almeno una ventina se no non si gestiscono le commissioni attenzione che le commissioni parlamentari sono quegli organismi che poi preparano il lavoro del parlamento se le commissioni parlamentari vengono bloccate cioè le commissioni parlamentari che preparano discutono le le leggi prima se non hanno la maggioranza dentro le commissioni il governo non può portare avanti le proposte di legge quindi di fatto anche se il governo ha la maggioranza 156 voti se dalle commissioni non passano le leggi perché sono non lì non c'è la maggioranza del governo né in gran parte delle commissioni il governo non può fare assolutamente nulla di nulla ma dove li trova in questa situazione terribile 20 20 parlamentari il giuseppe commenta guerini che non fa la guerra ma il ministro del della difesa confida a un compagno di bar di partitrice terribile terribile per conte terribile per conte se ci fosse un'alternativa sarebbe pronto un esercito forzisti tendenza letta centristi dell'udc un pezzo di cambiamo più europe ovviamente renzi sarebbe come la definita ieri calende della vedova la maggioranza ursula vabbè loro dicono uniti dai valori europei dell'interesse del sistema uniti dallo stipendio vabbè intanto si potrebbe andare anche direttamente al voto come dire o conte o conte o il voto che a zingaretti non dispiacerebbe non dispiacerebbe al punto che tra i grillini racconta una autorevole fonte di governo si è discusso su una moratoria del doppio mandato visto che la miglia la legislatura non sarebbe completata quindi i cinque stelle stanno già discutendo di cancellarsi il vincolo del secondo mandato e chi se ne frega di grillo di casaleggio noi quello che si dice noi cinque stelle che siamo qui e rischiamo di perdere lo stipendio grillo dice ma chi se ne frega ci cancelliamo il secondo mandato e ci ripresentiamo tutti poi grillo faccia quello che voglia sbraiti faccia i post su facebook però per salvarsi lo stipendio passerebbero sopra a tutti i grilli della terra beh intanto mattarella boccerebbe questo ritorno alle urne lui sarebbe per far andare avanti il giuseppi o qualcun altro a tutti i costi e quindi rimarrebbe la strada del conte terzo pieno di possibili agguati e dovrebbe affrontarla conte non facendosi una lista perché come l'ha avvisato Bettini ermonaco sulla stampa se diventasse parte delle parti si perderebbe la sua figura di punto di riferimento avete capito se conte dà le dimissioni per aspettare un reincarico dato da mattarella suspinta dei partiti di maggioranza pd 5 stelle ma se conte va a farsi un partito non diventa più il punto di riferimento perché facendosi un partito porta via voti ai 5 stelle al pd di mezzo a quei partiti e allora cercherebbero di mandarlo via ecco e così tramonterebbe anche il disegno di una coalizione formata dalla sinistra e da una stampella di centro che nel pd era stato subito identificato come il solito schema dalemiano di d'alema quindi idem hanno visto l'influenza di d'alema anche quando conte alla camera nel discorso per la fiducia ha teorizzato una sorta di equidistanza tra stati uniti e cina bene io vi ringrazio per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci a tutti grazie ciao